Salve, famiglia Milan. Oggi vi diamo una notizia importante e preoccupante sul futuro di Paolo Fonseca alla guida del Milan. A soli tre mesi dalla presa in carico del club, Fonseca sta già affrontando molte pressioni e la sua posizione di allenatore sembra essere sempre più a rischio. Prima di immergerci nei dettagli, ricordatevi di mettere i mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie sul Milan. Paolo Fonseca, annunciato come allenatore del Milan il 13 giugno 2024, in sostituzione di Stefano Pioli, è arrivato con grandi aspettative. Presentato ufficialmente l'8 luglio, in occasione dell'inizio della preparazione per la stagione 2024-2025, Fonseca aveva la missione di riportare i rossoneri in carreggiata. Tuttavia, a meno di tre mesi di distanza, la situazione è preoccupante, con Fonseca che rischia di essere licenziato dopo una serie di prestazioni non all'altezza. I tifosi, già spazientiti dai risultati, chiedono a gran voce un cambiamento e hanno in mente due nomi per sostituire Fonseca, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Allegri, che ha una storia di successo al Milan, è visto come un'opzione sicura per portare stabilità alla squadra. Sarri, invece, con la sua filosofia tattica più offensiva e conosciuta, potrebbe offrire una nuova identità al club, soprattutto grazie alla sua esperienza in squadre come Chelsea e Juventus. La scarsa forma di Fonseca è aggravata dai recenti risultati deludenti, tra cui la pesante sconfitta contro il Liverpool, che ha messo in luce le debolezze della squadra. Il prossimo derby contro l'Inter potrebbe essere decisivo per il futuro di Fonseca al Milan. Se la squadra non dovesse fornire una prestazione convincente, la pressione per un cambio al timone sarebbe ancora più forte. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Pensate che Paolo Fonseca sia ancora in grado di ribaltare la situazione o che il Milan debba prendere in considerazione un cambiamento immediato e puntare su Allegri o Sarri? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre aspettative per il derby contro l'Inter. E naturalmente non dimenticate di mettere i mi piace al video e di iscrivervi al canale per ricevere ulteriori aggiornamenti sul nostro amato Milan. Alla prossima, Famiglia Milan!